Che nemmai avremmo pensato? Un ospedale in Africa, in Congo, la Casa Famiglia della Misericordia, lo studio dell'Elpe Center, la Moscati e ultimo il centro Buon Pastore, dove proprio si è tenuta la conferenza stampa, struttura che muove i primi passi. Dieci anni inimmaginabili, speriamo che il Signore e i cittadini continuano a aiutarci così, ma ci sarà il premio nazionale medico di carità, quindi il premio diventa più importante, tra i premiati il professore Gringe dell'Università di Patova, ma poi ci saranno tanti altri medici molto bravi che verranno premiati e grossa soddisfazione per quello che sta succedendo. E' un ricordo particolare per Enrico Cusumano, una giovane collega pediatra scomparsa la settimana scorsa, a 34 anni, che è stata una passionaria del centro medico Jesho, una delle fondatrici, abbiamo tagliato insieme il nastro, quindi siamo entusiasti di quello che è successo e siamo entusiasti e increduli, perché ancora oggi non ci sembra possibile che di fatto senza una lira in tasca ci siano ospedali in Africa, ci siano tanti centri per i senza tetto alla stazione, ci siano due case famiglia, non ci sembra da virgolette vero. Sì, appunto, siamo giunti alla quarta edizione, siamo stati definiti appunto la colonna sonora di terra di Gesù Onlus, quindi cosa ci aspettiamo? Una serata chiaramente di beneficenza, quindi all'insegna della solidarietà, e tanta musica, tante canzoni, il bello del vivere insieme, di poter contribuire ed aiutare chi è meno fortunato di noi. Sicuramente la forza sta nella squadra, ciascuno apporta il proprio contributo, ci sono anche tante persone che magari non sono in vista, ma che comunque svolgono un lavoro molto importante e impegnativo, e quindi la forza sicuramente sta nella squadra e nella voglia davvero di metterci tanto cuore per renderci utili.